Non soltanto di Piazza Verdi ha parlato l'assessore Daniela Gerosa nel recente dibattito sugli spazi pubblici della città. Anche il salotto buono di Como, Piazza Cavour, è stato sonoramente bocciato a partire dagli enormi alberi che chiudono ai lati l'area. Il punto però è che sebbene le critiche all'aspetto del luogo si ripetano pressoché unanimi da anni, a oggi il Comune non ha un centesimo da investire per il ridisegno e nemmeno un progetto concreto nei cassetti. Eppure, nell'arco degli ultimi tre anni, qualche spunto per ipotizzare una veste diversa della piazza era arrivato. Nel 2010 toccò l'architetto milanese Cino Zucchi, vincitore del concorso internazionale di idee per ridisegnare il lungolago di Como dopo il caso del muro, ipotizzare una decisa modernizzazione del salotto buono. Nuove aiuole, niente alberi a grosso fusto, pavimentazione in pietra grigia e nuove torri circolari per l'illuminazione erano i punti forti, il tutto coniugato all'idea di realizzare lo sbocco verso il lago a forma di conchiglia. Di questo progetto però non si farà nulla per i costi complessivi, circa 6 milioni di euro. Più attuale è l'ipotesi fatta dai tecnici del Politecnico di Como nel contesto del progetto preliminare per l'aspetto definitivo di tutta la passeggiata lago. Il rendering è minimale e ipotizza un grande spazio libero, ornato solamente da qualche macchia verde e da una sorta di piattaforma rialzata per godere di una vista migliore sul lago e forse per ospitare concerti. Ora però l'urgenza del comune è finire il lungo lago e solo dopo, semmai, si interverrà sulla piazza.